Ciao a tutti ragazzi, io sono Gabri786, in questo momento io con il mio amico Antonino ho chiuso la chiamata perché mia mamma serviva il suo telefono, ora io sono col mio e lui non sa che sto registrando, non so neanche dove cavolo è finita in partita, sicuro non si qualifica. Sono molti, sono cascati tutti, oh mio dio, non ho sbagliato, vediamo se c'è qua, eccolo, 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 e si è qualificato, anche io, si è qualificato, lui è l'alieno verde come me che alcune volte noi ci mettiamo la skin uguale e oggi non dobbiamo, non so, allora, solo io dovrò toccare questo colore che lui non lo sa, è il colore rosso, ovviamente il rosso di quanto mi eliminano non vale, lui è l'alieno là in alto a destra, non so perché si è messo il nome SFGHF, quindi SFGHF si chiama, ma ragazzi, ma è possibile? 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 Cioè, proprio quando stavamo facendo la partita mi si doveva bugare, ragazzi, comunque a me sto bug mi succede 70 volte al giorno, o no? Ok, questo è qualificato, vediamo, questo è qualificato per me, sì, perché in questa mappa sta diventando molto... Stavo scherzando! Non ci siamo qualificati... Ciao ragazzi, benvenuti a vitamina C col mais, al nostro appuntamento, un colta fantascientifico! Ma chi è? Ehm... comunque ragazzi questo video durerà poco, infatti questo è il mio terzo video su stumble guys, infatti domani farò un altro video, tipo forse tutti su stumble li farò i video, comunque noi ci vediamo al prossimo video che sarà esattamente domani pomeriggio! Ciao!